Sugli scaffali di un piccolo centro commerciale della Val di Sangro, tra merendine, biscotti, latte, pelati, yogurt e mortadella, i finanzieri della tenenza di Lanciano hanno scoperto 178 articoli alimentari scaduti o privi della data di scadenza. Nell'esercizio commerciale, affiliato di una grande catena di distribuzione, il lavoro dei militari è stato coadiuvato da un veterinario ufficiale dell'ASL provinciale di Chieti. Accertata la violazione alla normativa vigente, i finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutti i prodotti risultati non conformi, segnalando all'autorità competente il titolare della ditta individuale. L'operazione di servizio, dicono i finanzieri, è stata eseguita nell'ambito dell'attività di intelligenza e di controllo del territorio da parte della tenenza di Lanciano, attività che ha consentito tra l'altro nel recente periodo di festività il sequestro di oltre 14.000 articoli elettrici con relativa segnalazione di tre persone e il sequestro di 247 articoli privi del sigillo SIAE e di 38 articoli con marchi palesemente contraffatti con relativa denuncia di sette persone.